Per il Veneto e con il Veneto, assieme a te il nostro impegno continua. Per vincere le sfide del futuro serve una grande squadra, la tua squadra, con Luca Zaia e Roberto Ciambetti. Scegli il governo dei Veneti. Il 20 e 21 settembre, vota lista Zaia e scrivi Ciambetti. Grazie a tutti.